Buongiorno signori, a dicembre pensioni più ricche e non solo per la tredicesima. Infatti alcune categorie di pensionati andranno a percepire anche un bonus di 155 euro. Io sono Mr. Lull e adesso vediamo insieme come funziona, a chi spetta e come fare domanda per il bonus pensione dicembre 2020. Sigla! Tecnicamente parliamo di importo aggiuntivo pari a 154 euro e 94 e non è certamente una novità. Infatti il bonus è previsto dal nostro ordinamento dal lontano 2001. Ovviamente questo riconoscimento non spetta a tutti ma soltanto a chi percepisce una o più pensioni con un importo complessivo non superiore al trattamento minimo e che si trovi tra l'altro in determinate condizioni reddituali. Il bonus è riconosciuto per tutte le tipologie di pensioni erogate dall'Inps esclusi però i trattamenti assistenziali come pensioni assegni sociali, le prestazioni agli invalidi civili, le pensioni dei dipendenti degli enti creditizi, dei dirigenti d'azienda e i trattamenti non aventi natura di pensione come l'isopensione ad esempio. Bisogna poi rispettare determinati requisiti reddituali rivalutati di anno in anno. Nello specifico per il 2020 10.043 euro e 87 come reddito personale che diventano 20.087 e 73 in caso di pensionato coniugato. Il bonus sarà poi riconosciuto per intero se l'importo complessivo delle pensioni percepite per il 2020 sarà minore o uguale a 6.695 euro e 91 che è il trattamento minimo del 2020. Se invece l'importo complessivo delle pensioni percepite risultasse compreso tra 6.695 euro e 91 e 6.850 euro e 85 al pensionato spetterà un bonus ridotto pari alla differenza tra 6.850 euro e 85 e l'importo delle pensioni stesse. L'importo aggiuntivo viene di norma riconosciuto in automatico dall'Inps tuttavia se avete requisiti potete tranquillamente fare domanda di ricostituzione della pensione accedendo al solito servizio online oppure tramite gli intermediari autorizzati. Detto questo io come al solito vi saluto vi ringrazio e ci vediamo in un prossimo video. Un saluto a tutti da Mr. Lul